Bollette insostenibili soprattutto per chi vive di pensione e alcune amministrazioni comunali si mobilitano per venire incontro alle necessità degli anziani. E' il caso di San Severino Lucano dove è andato per noi l'inviato Umberto Avalore. A volte che vado a pagare, insomma, arrivo al minimo proprio della sopravvivenza. Il riferimento è al caro energia, in questo caso subito da un pensionato di San Severino Lucano con più di 1000 euro pagati per il conguaglio del gas. Una bolletta troppo onerosa, purtroppo non un caso isolato. Mi sono sacrificato perché qualcosa da parte ce l'avevo, però se continuo così la situazione in seguito non ce la farò. Per molti invece gli aumenti delle bollette hanno già determinato ulteriori peggioramenti della qualità della vita. Già a tenere il frigo acceso, quasi quasi un lusso, perché se vuoi accendere il forno il condatore gira. Analoga riduzione poi per il riscaldamento, ben essenziale in un centro di montagna come San Severino Lucano, gas bandito e il ritorno all'uso della legna, ma anche in questo caso costi aumentati. Costa 20-30 euro in più, la gente non si trova più, cioè con la pensione non ci arrivano a pagare tutte le tessere che tengo. Noi cerchiamo come comune di rispondere ai bisogni delle persone che hanno maggiore necessità, dando loro della legna da ardere. Infine le attività turistiche, stessi aumenti e prospettive allarmanti. Aumentando i prezzi dovresti aumentare i costi, dovresti aumentare i pasti, però la gente non ha soldi. Dobbiamo vedere come fare, altrimenti dobbiamo chiudere l'inverno, i mesi invernali chiudere e poi riaprire in primavera.